e se la metti segna pavoletti e se la metti segna pavoletti mamma mia mamma mia mamma mia e se la metti segna pavoletti signori bentornati in serie a bentornati a tutti il giorno dopo c'è realtà mi sono svegliato da dopo una domenica di 5 ore perché alla fine ieri sera poi tra rispondere a tutti i baresi sono andato a prenderli io su instagram trasfottere un po' in giro il buon papirus ecco e i bagliazzi vari alla fine ho perso un po' di tempo poi chiaramente non riuscivo ad andare a dormire ho visto tutto all'esultanza tutto l'amore che hanno ricevuto i ragazzi al rientro a Cagliari e sono contento se lo meritano e speravo appunto ci fosse un'accoglienza di questo tipo faccio un video il giorno dopo i pagellazzi non li faccio anche se volendoli potremmo fare ma non li faccio semplicemente perché da domani o da dopodomani comunque ci saranno le pagelle per le parti dell'annata anche perché quest'anno finendo adesso a metà giugno abbiamo veramente poco tempo voglio fare i mercati la progettualità facciamo diverse cogliamo diverse inerze che si stanno presentando e attenzione 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 quindi quindi signori allora riparliamo un attimo della partita di ieri a livello un po' tattico allora la partita di ieri tatticamente è stata messa esattamente come mi ero proposto poi in realtà è stato a tratti più un 4-4-2 con Lella a fare l'esterno sinistro e qua torniamo al discorso su Lella la duttilità tattica che ti dà Lella in questo Cagliari non te la dà letteralmente nessuno è uno capace di farti dall'esterno sinistro perché comunque ieri poi a tratti lo faceva un po' più Luvumbo quindi era un 4-5-1 a tratti lo faceva un po' più Lella ed era un 4-4-2 ti dava una duttilità tattica allucinante e continua a ripetere questa cosa è quello che con Azi a livello offensivo si trova meglio secondo me è quello con cui vedo le detrame migliori e quant'altro perché un giocatore che si sa muovere sa come stare in campo è un giocatore comunque, sì, è giovane ma ha già diversi anni di esperienza in Serie C e si vede, e si vede, e si vede indubbiamente quindi questo per quanto riguarda Lella che appunto terrei in Serie A soprattutto in virtù di questo motivo la partita, cioè voglio dire, è anche abbastanza inutile entrare troppo nei dettagli, nelle analisi dei singoli la svolta tattica è stata chiaramente beh, c'è stata una prima svolta mentale ovvero che loro secondo me si sono cagati in mano dal primo all'ultimo minuto poi lasciate perdere che il secondo tempo hanno avuto due enormi occasioni ma voglio dire, la sostanza non cambia poi l'analisi tattica analisi tattica, cioè c'è stata più densità centrocampo ed è successo quello che non è successo all'andata ripeto, vedendo questa partita di ritorno quasi da pensare, figa che all'andata Ragnieri l'ha voluta far pareggiare apposta perché non capiscono il non sostituire quei centrocampisti che erano morti nella gara d'andata e quando era chiaro che oggi si è visto che serviva corsa oggi poi è andata bene ieri stiamo godendo, stiamo spruzzando sui baresi in un modo guardate qua che puntura di zanzara, mastarde è chiaro che stiamo godendo tantissimo onestamente poi i cambi secondo me non è che abbiano dato una svolta alla partita così positiva nel giocato nel senso che secondo me un Corfalidis doveva entrare perché si è persa con l'uscita di Lella troppa troppa corsa e quindi lì c'è stata un po' di fatica poi Zappa fa un gran cross ecco, se vogliamo parlare dei singoli parliamo solo positivamente di chi dobbiamo parlare cioè Zappa ma è giusto, ma è giusto così è giusto così è giusto così che a decidere l'intera stagione sia forse il giocatore rispetto alle proprie prestazioni più bistrattato di sempre ed è giusto così ed è giusto così poi non è magari un fenomeno poi sbaglia magari le fasi difensive questo lo sappiamo ma ragazzi ogni giocatore ha le proprie caratteristiche Zappa è sempre stato fatto giocare in difesa 4 senza un esterno davanti perché ieri ho realizzato un'altra cosa Zappa gioca bene o con un altro esterno davanti che quindi lo aiuta in fase difensiva e in fase offensiva oppure viceversa lui più avanti e l'altro più indietro comunque in due esterni sullo stesso asse oppure col difensore centrale dietro come ci siamo sempre detti quindi giocare a 3 più i 4 davanti o i 5 quindi Zappa ieri ha dimostrato ha dimostrato che ancora una volta l'incompetenza regna a Cagliari e che ieri ieri decide ieri decide lui la stagione con Paoletti decide lui la stagione perché quel dribbling e non andare subito dentro cioè quelle sono cose che non pensi quelle sono cose che qualcuno ti bacia dall'alto il dio del calcio e ti dice fai questa cosa buttatela avanti che quello ti apre le gambe gli passa in mezzo e poi la metti dentro quindi non ce la posso fare quanto veramente quanto sto ancora godendo a pensare a pensare che quelli lì ah bravi ragazzi noi non dovevamo andare i commenti sotto il post del Bari dei baresi ah no ma noi avevamo una squadra per rimanere in Serie B avete già fatto tantissimo bravi ragazzi hanno vinto la coppa che ha vinto l'interiere la colpa la coppa testa alta ma andate a cagare ma che siete dei pagliacci clamorosi assieme ai tifosi del Palma e a Pedro ciao Pedro grande Pedro che diceva diceva che mia madre robe su mia madre erano i che dovevano cadere al ritorno Pedro Pedro queste cose ti entri per te che sei uno sfigato sei uno sfigato allucinante c'è un vocabolario di 20 parole studia e al di là di questi al di là di questi soggetti veramente raccapriccianti poi Paoletti fa la zampata anche qua devo dire illoprevisore l'eccelso illoprevisore come prendi i miei meriti io ho detto ragazzi e l'ha detto anche lui ieri i telecronisti io i gol di testa non li faccio più ma è la verità non ha più un fisico per e ribadisco tutto quello detto cioè per quanto mi riguarda per come sta fisicamente è un ragazzo che si deve ritirare cioè sì secondo me sì si deve ritirare il prossimo anno starà a Cagliari perché dopo questo gol starà a Cagliari però lo tieni come quinto uomo proprio come ultimo attaccante per dire appunto la zampata di Paoletti illoprevisore perché ho detto io per me non fa colpe entrai non crossi per fare colpe di testa crossi per fargli fare la zampata sono quei gol che Paoletti ha elaborato in seguito a una perdita di tante altre capacità e questo vuol dire che è una persona intelligente e tra l'altro una menzione anche speciale al mio amico Nicola perché noi l'abbiamo incontrato fuori dallo stadio prima dei playoff contro la Ternana post partita della Ternana e abbiamo detto appunto ti stai tenendo i gol per i playoff e se l'è tenuto e se l'è tenuto grande grande pavo e altri altri ragionamenti su altri giocatori beh su Macumbo su Macumbo e anche poi arriviamo ad Ossena Macumbo cioè ha fatto un secondo tempo cioè ecco il prossimo anno ripartire da Macumbo in una posizione da da mezzala da mezzala poi all'occorrenza può fare anche il play in modo diverso più medianistico medianistico però non ignorante con i piedi cioè lui intelligente con i piedi semplicemente secondo me non ha questa grande non ha questa grande visione per dire vi faccio il lancio forse non ha neanche i piedi per farlo però tecnicamente è forte tecnicamente è forte poi non ce l'ha nelle corde quel lancio però ultimamente li sta provando li sta provando i cambi gioco quelli li deve li deve prendere perché anche da mezzala serve noi non facciamo mai i cambi gioco ma avete visto la partita dell'Inter com'è che stava inchiodando il City con questi cambi gioco cambi gioco di 30-40 metri che li inchiodavano tutta la squadra e questa è la realtà delle cose questa è la realtà delle cose Macumbo giocatore clamoroso e faccio mia colpa ancora una volta e altri altri poi Tognone Tognone che è entrato il Lottognone il Lottognone entra e e fa la spazzata decisiva su Azzi e questi sono sono i ragazzi i ragazzi i nostri ragazzi dei cessi che però decidono di fare la differenza e quindi niente sono veramente felicissimo contentissimo e adesso da domani appunto faremo faremo diversi videaci faremo i video pagellazzi faremo faremo tanti tanti videaci video su progettualità delle live compatibilmente anche con i miei impegni e sono veramente contentissimo appunto anche scusate mi sono identificato Dossena anche Dossena assolutamente una menzione d'onore perché ha fatto una partita clamorosa fin quando non è uscito e comunque anche altri ragazzi che erano in panchina Nandez e quanti altri si vedeva che ci tenevano si vedeva che che veramente la stavano vivendo agonisticamente cioè c'era veramente un tutt'uno di cacciara di robe anche prima del gol cioè quindi era veramente una squadra che ci ha creduto sino alla fine che ci ha creduto sino alla fine ci abbiamo creduto sino alla fine madonna madonna godo 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 tantissimo bari merda forza Cagliari e se la metti segna Paoletti ciao ragazzi grazie